www.redigio.it e la storia continua la safra notizie fresche di 50 anni fa Ditelo pure con i fiammiferi. Chi propone fiori, chi libri, chi dischi, vecchi da baci e carezze, altri invitano a pranzo, al cinematografo, a teatro, in campagna, la safra produce e offre fiammiferi che non sono cose da niente ed esorta ad acquistarne e a regalarne. Ditelo con i fiammiferi. I cerini, i fiammiferi, quante interpretazioni. Archimede, con un fiammifero, si sarebbe provato a sollevare il mondo. Punto d'appoggio. L'orlo di un portacenere galattico. Nerone avrebbe adottato una vostina della safra per fare della non eterna Roma un rogo immediato. Un masochistico falò che gli sarebbe divampato tutto intorno, perciò con più gusto. Noi oggi compriamo e chiediamo un fiammifero per accendere una sigaretta o la pipa e il gas in cucina. Abbia da essere un segno che diventiamo migliori? Il fiammifero, in quanto strumento e logo di incontro di reazioni che investono anche la nostra sfera morale, il fiammifero come presenza sociale. Alcuni hanno scritto, per esempio, e non poco bene, un elemento dell'ambiente storico quotidiano, utile come l'automobile, pronto e immediato come un quadrigetto. Fra duemila anni, nelle enciclopedie, ne scriveranno come noi oggi a scuola impariamo le equazioni di secondo grado, l'agorà, l'incendio di Troia, la sintesi a priori, il paleolitico e la scoperta dell'America. L'archeologia e la storia sono scienze che di ogni ieri fanno un oggi. Ci rimandano a quello nell'atto stesso che loro istituiscono al presente. Il fiammifero come oggetto, domani, anche lui, oltre che di percezione e di memoria, stelle e specchio a un tempo, epigrafe a sesto senso. Lui, questo minuscolo, utilissimo portatore di luce e produttore di fiamma. La definizione, e così è stato scritto, scaturisce dall'etimo stesso della parola, che ha avuto, ed ha ancora, in alcune ragioni italiane, come impegnativo sinonimo il termine angelico infernale di lucifero, che è un sinonimo bivalente, anzi ambiguo. Come la grande stella dell'alba, che di sera reca gli abbagli e il nome di Venere. La prima a risplendere, l'ultima a tramontare. Si è fatta la luce, e la luce fu. Da allora ogni oggetto ha la sombra. Accadde il peccato originale. La fiamma e il fuoco come strumenti d'odio o di amore. Causa, anche. E, complici, l'accendere la sigaretta a una signora può contribuire a sedurla. Va, altrimenti, perché accende un lume votivo. Lo sfregare un fiammifolo diventa un atto di pietà o religione. Dai locali notturni, al salotto, ai cimiteri, dalle cucine, alle segrestie e d'altre alcove, il fiammifolo è testimonia attendibile dei nostri gusti e illusioni e speranze. È protagonista anch'esso e sempre nelle varie forme della nostra sacra o profana dedizione. Invece di due donne, l'una vera e conta e abbigliata, l'altra completamente nuda e impassibile. Oggi il tiziano forse ritrarrebbe due figure trasumanate di fiammifero. L'uno accostato a una candela e in atto di accenderla, l'altro strofinato accanto a un cuscino ancora ansimante. Diana non si sarebbe fatta attonito quarto, un'unghia di luna per spiare la nuda bellezza di Endimione, se fra il pollice e l'indice avesse potuto stringere un fiammifero. Il fiammifero è muto, leggero, prudente, è discreto. Cerca il buio di tanto quanto all'oscurità ne basta il riverbero. Sa anche essere casto. Così la bellezza non teme di lasciarsi spogliare dallo sguardo se le fa luce un cerino. Come un abbraccio non ripugna, se lo scalda e illumina, un affetto autentico. Considerato in questo modo il fiammifero, diventa lo stelo di una rosa. Se mangiato senza cortezza, questo punge, quello scotta, se non lo spegniamo puntualmente. Non ve rosa senza spine. Come? Non ve fiammifero acceso senza che rischiamo di bruciacchiarci le dita. La bellezza come utilità impone un prezzo. Esige cauta attenzione. Grazie alla sappa. I nostri tavoli, i nostri comodini, le nostre tasche si fanno insomma al giardino fiorito e i nostri pugni aperti, il cantuccio, a brividi di un fondale estivo di mare. Accesse un fiammifero. Nel cavo della manna, il Ghi Tremò, una fiammella simile a una perra di conchiglia d'oro. Questo è stato tratto dagli occhi del Maggiore. Poesia del fiammifero, ha detto qualcuno. Perché i fiammiferi sono diventati mitici? Ipnotizzano certuni. Affascinano molti. Soccorrono tutti. Sono un'abitudine. Un automatismo è ormai nell'uso di essi che ce li rende grati e indispensabili come la cravatta in salotto. Gli scii sulla neve, l'ombrello si piove. E al mare il bikini. A volte inquietano. Non saprei perché. Forse perché attraggono. Come tante belle signore. L'attrazione del sesso e quella del vuoto stanno a certi vertigini un poco. Come il cerino sta al bisogno del fumo, al piacere del caldo. è al culto del fuoco. Rigenera quasi. Forse oggi è lui che li provoca. Si vengono incontro nella stessa indeterminabile, quasi sacrale, maniera e per le stesse ragioni misteriose secondo cui il profumo è legato ai termini tempi della rosa. e gli alfabeti e i numeri stando alle scienze occulte e si relazionano sempre. Così il sole è un'anima sola con l'estate. Come Prometeo è la prima fiamma nel primo mondo abitato del primo uomo. Prometeo aveva unghie di fosforo e polastrelle a forma di capocchia. Toccava il cielo e gli squillavano le mani. Dieci vampate. Ogni volta. Cantano così i lampadari in certi saloni da Prometeo a Murano al passo è breve come della pietra fucaia al fiammifero dall'uomo di Cro-Magnon all'uperaio della Saffa. Le dita di Prometeo avevano il voltaggio dell'infinito e i loro vatte continuano ad arrivarci da anni luce. I suoi dati anagrafici sono scritti nelle lune e nei venti di Ancestrali Astrolabi. Dove incede lui prende sempre a brivio da sempre e la spirale di un nuovo sistema solare. Senza Prometeo Giovanna d'Arco sarebbe una santa senza rogo. Come la destinazione dell'anima di ogni uomo è la stessa attuata nel cuore adusto degli inguini inceneriti di Giovanna che avvampa. Così le nostre mani sono rimaste ancelle del fuoco. Alla maniera di Prometeo altro che Alessandro Volta si polgono fiammiferi come si offrono ex voto si accendono preghiere si regalano cioccolatini come un'infermiera fa iniezioni come indirizziamo una lettera. Fanno parte anche essi i fiammiferi di un atto di ricordo o di dedizione di un gesto di cortesia. Possono costituire un augurio adempiano la vece di un saluto. Le loro bustine sono intestate a volte ad personam ed in oro anche. Una bustina di fiammiferi è capace di sostituire oggi un biglietto di visita. Dicono il nostro stile hanno un galateo proprio. Con un Minerva preveniamo altri nell'accendere la sigaretta così come sul tramvai lasciamo il posto a un invalido o a una vecchia signora. Una bustina di fiammiferi la si può spedire a volte in un cartoncino foderato di stagnola. Calata fata e leggiadra come una gondola. Lucicante argentia all'interno come all'esterno squillano gli automobili. Pullman gli hangar le crode gli idrogulanti i ghiacciai gli avvioggetti arrivato bene ciao fumo la mia salute ti abbraccio ricordami i fiammiferi come telegrammi cartoline lettere perfino come sonnetti vi è una poesia delle cose e si scrivono poesie su ogni cosa. Mi sovvengo ma cos'è mai è il caso di Govoni chi scrisse un vecchio mago vende delle scatole dentro ci sono a letto tanti bambini con in capo dei rossi berrettini sembrano fiammiferi invito a rileggere il quaderno questa distinzione questa distinzione fra la poeticità intesa come platonica iperuranica e categoria dello spirito e poetica anzi la poesia come individuale e reiterato fare pratico in ordine a una forma d'arte determinata e precisa vale anche per il fiammifero e non solo davanti al caminetto o per una tetatet oppure sull'altare e il fiammifero partecipa a suo modo anche alla nostra prima comunione accende le candeline della torta sul nostro compleanno di Pasqua ci accompagna nelle sette visite dei sepolcri senza lui che spenta conifera di Velta sarebbe l'albero di ogni nostro Natale come sarebbe squalli dalla cerimonia annunziale se il sacrestano non disponesse di cerini e rassegnazioni minori ci soccorrerebbero ad ogni funerale e le processioni e la Santa Messa potrebbero avere luogo ma come devono noi le lacrime di Maria e Calvario ci avrebbe forse di riconoscere anche nei bioccoli rappresi come tante estruggenti sicere quando i chierichetti danno fuoco agli incensi è lì che gli angeli cantano e i cerini si fanno canne di organo i cerini i fiammiferi quante interpretazioni hoi la la how you gonna keep on down on the farm valedae scene valedae scene valedae scene pari a a a Grazie a tutti.